Amore, ti ho fatto una sorpresa. Allora, vediamo, sentiamo. Sì, vi è che ti compensa. Quando è l'ultima volta che mi hai fatto una sorpresa? Amore, ne sono finiti i tempi belli di una volta. Però ti ho fatto una bella sorpresa. Andiamo in un posto bellissimo. Hai un viaggio? La psicologa, una delle cose che ha detto a Francesco è prendetevi un weekend, staccatevi completamente senza telefono, senza lavoro, senza computer, andate in un posto sperduto e godetevi voi. No, amore. E quando andiamo? Non ci preoccupare. Eh, devo fare la valigia, organizzare i bambini, lasciare i bambini da tua mamma. Ti fai cosa fare? Adesso sto prenotando tutto, devi essere solo felice. Grazie, amore. Vito. Un limone, però. Senza limone. Un po' di cocco. Un po' di cocco.